Mente lucida, intelligenza critica e cuore solidale, Fabio Guccioni lascia un grande vuoto nella nostra comunità. Con queste parole il sindaco di Fano Massimo Seri ha ricordato con stima l'ex assessore ai servizi sociali, presidente e poi vicepresidente della fondazione Fano Solidale, deceduto all'età di 65 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia ai polmoni. Ugo Guccioni, stimato da tutti, è deceduto questa mattina alle 5 all'ospedale Santa Croce, lascia la moglie Rossella e la figlia Gaia. Politicamente, ha detto Seri, è stato un amministratore coraggioso e per certi aspetti quasi rivoluzionario perché leggeva in anticipo i cambiamenti sociali. Di lui ho sempre apprezzato la coerenza anche nelle scelte mai di parte all'interno del suo percorso. Sul fronte personale si è sempre distinto per il grande impegno che lo ha portato a credere in tante iniziative di forte impatto. Ad esprimere cordoglio anche l'assessore regionale ed ex primo cittadino Stefano Guzzi. Fabio Guccioni per me era non solo un carissimo amico ma è stato un collaboratore fidato fin da quando io mi sono candidato a Fanno la prima volta, poi è stato con me assessore nella mia prima giunta e proprio lui aveva poi rinunciato al ruolo di assessore, cosa molto rara per guidare la fondazione Fanno Solidale, per portare avanti questo suo progetto al quale ha sempre tenuto tanto e per il quale ha dato tanto verso i più deboli, verso le persone che ne hanno più bisogno. Quindi questa città, la città di Fanno perde una grande persona, una bella persona, una persona che era sempre pronta e disponibile verso gli altri. Per me sinceramente è un grande dolore. Ugo Guccioni negli anni ha ricoperto incarichi di prestigio, prima con la democrazia cristiana e poi con l'Udc, partito che oggi lo ricorda come un uomo di grande intelligenza e politico che ha sempre agito con lealtà e schiettezza. Devo dire che ha fatto tante opere che rimarranno in questa città, dalla casa di riposo al centro Itaca, alla fondazione Fanno Solidale che ha dato tantissimo veramente da questo punto di vista, i club anziani, l'arena BCC piuttosto che i prestiti sociali. Quindi ha fatto tanto per la città, è una persona che verrà ricordata appunto per le buone cose che ha fatto nella città. Dal punto di vista politico ha dato sempre un grande contributo, è stato sempre vicino alle persone in difficoltà, i più bisognosi, portando avanti con il suo modo di fare, molto deciso, energico, quasi vulcanico, il tema della sussidiarietà che ha portato in tutti gli ambienti politici, cercando appunto di portare avanti questo con grande impegno politico. Centinaia, oggi messaggi di cordoglio dagli amici, dal mondo del volontariato e da parte di ogni schieramento politico ed è in uno dei luoghi a lui più cari che il presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci, ha voluto salutarlo. Socio della cooperativa Tre Ponti, socio della Proloco, ideatore di quest'arena BCC che vedete qui alla mia spalla. E' venuto a mancare un personaggio impegnato nel sociale, nel volontariato. Noi qui che lo avevamo tutti i giorni naturalmente durante il periodo estivo in particolar modo, dopo il lavoro per lui esisteva il parco della chiesetta di Tre Ponti, il nostro parco dell'arena, dove dedicava tutto il tempo per innaffiare, per tagliare l'erba per la cittadinanza di Tre Ponti, ma tutta la cittadinanza piange oggi il nostro caro amico, socio Fabio Guccioni. I funerali di Guccioni si svolgeranno mercoledì alle ore 16 nella chiesa Santa Maria Goretti a Sant'Orso di Fano. La salma poi verrà tumulata nel cimitero di Rosciano.